Adesso, amici, entriamo in un altro discorso che riguarda quello che il Papa ha sottolineato tante volte. Proprio in questi due giorni, che è quello della pace e della guerra, siamo in una situazione di cui è preoccupatissimo il Papa, come sappiamo ormai il Papa parla di terza guerra mondiale apertamente, anche se non è formalmente dichiarata, e la Madonna, come sapete nel messaggio di aprile, ha detto che Satana è diventato sempre più forte attraverso coloro che hanno scelto per la morte e l'odio, quindi sono espressioni che ci dicono come incomba sul presente e sull'immediato futuro, incomba una minaccia mortale, una minaccia mortale, non si può sottovalutarla, cari amici. Allora, io adesso vorrei prendere lo sp... vi ho pubblicato, vi ho pubblicato sul blog due articoli molto importanti, uno è quello di settimanale di Don Stefano Caprio e proprio di due sacerdoti, uno appunto di Don Stefano Caprio che fa delle considerazioni che a mio parere sono molto importanti e per le quali si può dire delle conclusioni importanti anche, che riguardano in pratica l'orientamento del popolo russo che non è quello che dicono le statistiche di Stato. In realtà, nonostante le statistiche che danno un'approvazione della guerra che sta facendo Putin, al 90% in realtà c'è una diffusa malessere fra la gente, non approva, non è contenta, non avvalla, diciamo così, quello che la casta, diciamo così, non avvalla il menu che la casta da gente da mangiare, che è praticamente la possibilità di una guerra mondiale. E questo è importante, insomma, perché se domani il popolo russo si convertirà, vuol dire la stoffa, la gente è brava gente, insomma, non è pervertita per così dire, no? E poi c'è l'altro articolo ed un altro sacerdote, è un articolo di, mi dico il nome del sacerdote, padre Paolo Maria Siano, padre Paolo Maria Siano, che è il più grande studioso di Alessandr Tugin, che è, diciamo, l'ideologo del regime in Russia e ci mostra in questo articolo come il pensiero di Alessandr Tugin non è cristiano, cioè è né cattolico né ortodosso, ma è ignostico, esoterico e satanista. Quindi questo è uno studio dettagliato molto collaborato di citazioni, quindi c'è questo inquinamento del pensiero della casta al potere che è preoccupante perché satanismo in questo caso significa arrivare all'estremo, cioè arrivare anche all'uso della distruzione globale come via per la risurrezione, cioè sono gli estremi di romanzieri e di ideologi dell'estrema destra e dell'estrema sinistra che hanno abbandonato il cristianesimo per farsi influenzare da suggestioni sataniche. Questi sono i due articoli che vi ho messo oggi a disposizione, potete leggerlo con calma e ovviamente per gente preparata. Intanto però cominciamo col primo che è più interessante, è di Don Stefano Caprio che prendendo lo spunto dalle ricerche di Medusa, Medusa è una società di sondaggi russa che opera in Russia ma che non è di Stato, ha una certa indipendenza e la quale ha avanzato seri dubbi sul sostegno della popolazione russa alla guerra che ha scatenato Putin. Questa è una cosa molto importante perché ovviamente se un domani il popolo russo come la Madonna ci ha promesso si convertirà è perché ovviamente non è in sintonia con quello che stanno preparando i propri capi che di fatto è un percorso che porta all'autodistruzione. Ora vi leggo alcuni articoli, alcuni passaggi di questo ampio articolo di Don Stefano Caprio che è basato proprio su una ricerca fatta da un sito indipendente russo di ricerca di sondaggi che si chiama Medusa, è famoso questo sito e vediamo allora quali sono le considerazioni che bisogna fare, cioè è un conto l'ideologia della casta che è una casta militare a potere da sempre, poi prima la sovietica adesso è russa ortodossa ma comunque è sempre con la casta militare della Moscova che si perpetua, è una casta militare di fatto e che ha un modo di sentire che ha nulla a che fare con il cristianesimo e il cristianesimo è una verniciata esteriore, è un'alleanza quella che è sottodossa di comodo per ambe due, tanta parte l'attuale patriarca di Mosca era un agente del KGB come lo era Putin, quindi diciamo il cristianesimo c'entra ben poco se non come verniciatura esterna. Allora vediamo alcune considerazioni di questa ricerca fatta da Medusa che in pratica mette in discussione le statistiche di Stato sulla tensione del popolo russo alla guerra con la realtà del popolo russo che invece quando la gente normale sta manifestando tutta la sua preoccupazione leggo una delle dimensioni più sconvolgenti della grande guerra della Russia contro il mondo intero sarebbe il sostegno della popolazione agli istinti imperiali della casta del cremelino difficile da comprendere e decisamente impossibile da accettare cioè è impossibile da comprendere e da accettare che il 90% dei russi sostengono gli istinti imperiali della casta del cremelino sarebbe un orientamento a questo popolo russo difficile da comprendere e decisamente impossibile da accettare possibile che ad opporsi alla violenza di Stato si chiede lo Stefano Caprio c'erano soltanto alcuni sparuti dissidenti sottoposti a durissime repressioni fino alla morte in Lager nella totale indifferenza della maggioranza dei russi punto di domanda abbiamo visto che alla tomba di Navalny sono andati migliaia e migliaia di russi incuranti dal fatto che venivano filmati su questo si è soffermata la rubrica Signal di Medusa cercando di andare oltre alcuni stereotipi sull'apatia e la passività degli abitanti della Russia di oggi e di sempre se si da retta ai sondaggi ufficiali il 70% dei russi sostiene con entusiasmo la necessità delle parate militari sulla piazza rossa il 56% è contrario a qualsiasi cambiamento sociale ed economico e a questa mitologica maggioranza si attribuisce una sorta di sentimento negativo assurdo dalla regia alle analisi mediche fino alla promozione della pena di morte la maggioranza professa la fede ortodossa sempre secondo i sondaggi di Stato anche se si recca in chiesa solo il 40% dei fedeli russi ovviamente i sociologi di Stato affermano che la stragrande maggioranza dei russi approva l'operazione militare speciale in Ucraina ma la litania dei sondaggi ufficiali sul pensiero della popolazione lascia piuttosto interdenti quanto più si cristallizzano opinioni ampiamente condivise tanto più queste contraddicono quelle che si sentono esprimere nella vita quotidiana dei parenti e degli amici sulle strade e nelle case cioè è un conto i sondaggi che avevamo pubblicati è un conto invece quello che la gente dice nella vita quotidiana con i parenti e con gli amici nelle strade e nelle case e così si ha il sospetto che al di là della propaganda dei vertici e delle repressioni marginali ci sia un'ampia manipolazione di quella che viene definita la maggioranza dalla gente russa quindi andiamoci piano giustamente a dire che la maggioranza del popolo russo supporta questi istinti imperialisti della casta militare che ha il potere queste sono le parole di Dostevano Caprio come affermano gli autori del Signal quando si parla della maggioranza dei russi bisogna intendere la maggioranza degli intervistati nei sondaggi e c'è una grande differenza fra i russi concreti e quelli intervistati nei sondaggi perfino la maggioranza pubblicitaria del voto alle elezioni presidenziali per la consacrazione di Vladimir Putin è una realtà piuttosto dubbia sia sul numero reale dell'affluenza sia su quello dei voti espressi quando si dice che i russi sono contro le... eccetera eccetera quindi praticamente i soldati i sondaggi di Stato sono ampiamente manipolati ma questo avviene anche in altri paesi dice Don Stefano Caprio giustamente ma qui lo è di più perché siamo in una dittatura perché in altri paesi avviene comunque diciamo così quelli che fanno i sondaggi sono dei privati sono società private sono aziende private quelle che fanno i sondaggi quindi possono smentirsi l'una con l'altra qui invece i sondaggi di Stato li fa solo lo Stato e nessuno può contraddirli è una regola inflessibile di ogni propaganda se non si riporta l'opinione della maggioranza nessuno leggerà l'articolo il servizio relativo all'argomento che ci interessa i sondaggi dice Don Stefano Caprio ovunque questo è sono sempre meno credibili nonostante siano supportati da algoritmi e criteri di analisi sempre più sofisticati i rispondenti non dicono quello che pensano ma quello che ritengono necessario dire pubblicamente è questa autocensura è spesso più efficace di qualsiasi repressione cioè praticamente ovunque il sondaggio oggi è messo a rischio dal fatto che la gente non ti dice quello che pensa la pubblica mi opinione è una cosa molto diversa dalle opinioni delle persone in un mondo in cui ogni affermazione è sottoposta a una dimensione in cui pubblico significa alienato consignato a possesso di altri ambiti e strutture che siano esse che siano esse di potere o di monopolio o più in generale di gerarchia degli interessi sociali cioè praticamente i sondaggi sono diciamo così confezionati sono confezionati per gli interessi di chi li commissiona questo è il punto ma non riflettono e riflettono sempre meno gli orientamenti della gente voi pensate veramente che tutti gli studenti americani siano di verdì improvvisamente antisionisti lì sono minoranze che si impongono e che si impongono su tutti gli altri che magari stanno a casa quando la trovi non la pensano ugualmente sono minoranze che si occupano di un campus occupano un'università e trovano anche dei giornali e si pensa che tutti i giovani americani siano diventati improvvisamente antisionisti il che è tutto da dimostrare e così si va e così eccetera 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 sono manipolazioni volte ad orientare questo avviene ovunque in occidente ma viene soprattutto in Russia dove chi frequenta il popolo c'è la gente comune e non si trova rappresentata per nulla nei sondaggi di Stato che vengono pubblicati quindi giustamente quella che viene chiamata la pubblica opinione dice lo Stefano Caprio è cosa molto diversa dall'opinione delle persone in un mondo in cui ogni affermazione è sottoposta a una dimensione in cui pubblico significa alienato quindi detto in parole povere la gente alla fine nei sondaggi dice solo quello che serve per evitare i coinvolgimenti leggo ancora un brano manipolare l'opinione pubblica è più semplice di quanto sembri lo sanno bene in Russia e in tutto il mondo a prescindere da manipolare l'opinione pubblica cioè dar da intendere che la gente la pensi in un determinato modo ma poi in realtà non è così ma liberare l'opinione pubblica è più semplice di quanto sembri lo sanno bene in Russia e in tutto il mondo a prescindere dal regime al potere o dal sistema più o meno autocratico democratico come dimostra l'ondata di cieco antisemitismo che cresce a tutte le latitudini del contesto del conflitto fra i serenani palestinesi cioè questo improvviso antisemitismo in Europa negli Stati Uniti e in tutto il mondo che sarebbe nato nel giro di poche settimane è chiaramente una manipolazione dell'opinione pubblica i sondaggi riservati fra virgolettato sulla disponibilità dei russi a sacrificarsi per la vittoria in Ucraina permettono a Putin di ribadire trionfalmente che l'assoluta maggioranza dei russi mette a primo posto la sua appartenenza alla società russa allo Stato piuttosto che la propria discendenza etnica come ha spiegato ancora in questi giorni per disperdere le tendenze autonomiste dei popoli minori cioè praticamente la Russia ha almeno una decina di popoli che sono stati sottomessi alcuni dicono che sono il vento o di più ancora che sono stati sottomessi dai russi stessi e che aspirano all'indipendenza tutti si ricordano tutti si ricordano diciamo l'insurrezione della Cecenia e la distruzione di Grozny da parte di Putin Grozny è la capitale della Cecenia ma ci sono altri popoli che in Russia aspirano all'autonomia all'indipendenza allora Putin cosa dice che i sondaggi siccome i russi sono il 60% della popolazione il 62% della popolazione Putin dice che quelli che sostengono lo Stato russo al di là della propria discendenza etnica sono almeno il 90% quindi per dire che tutti lo sostengono anche i popoli che tendono all'autonomia oppure afferma che noti in particolare il sostegno senza precedenti dice Putin da parte del nostro popolo la stragrande maggioranza dei cittadini del nostro paese è spinta da un chiaro ideale patriotico come ha detto al Consiglio Ristretto del Ministero della Difesa una delle frasi che ripeti fin dall'inizio dell'invasione in Ucraina anche senza bisogno di citare statistiche e analisi sociologiche cioè imporre povere Putin ha bisogno di presentare sondaggi che arrivano fino al 90% e che dicono che il popolo russo è tutto dietro le sue spalle per nascondere in qualche modo le spinte secessionistiche di molti popoli nell'area asiatica che sono state sottomesse nel corso dei secoli questo dunque è un articolo che io apprezzo in un modo particolare perché ho notato una cosa e cioè che nel segreto di Fatima la Madonna parla per 5 volte della Russia chiamandola per nomi alla fine ha detto che la Russia si convertirà però poi quando siamo a Međugorje il primo messaggio uno dei primi messaggi di Međugorje quello del 30 ottobre del 1991 la Madonna non dice che la Russia si convertirà dice che il popolo russo sarà uno di quelli che avrà più di tutto onorato Dio allora da questo articolo che cosa si dice è un articolo serio questo tratto basato su 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 ricerche che ha fatto un sito indipendente russo quello di Medusa sull'orientamento della gente comune che è abbastanza seccata abbastanza contraria a questa a questa a questi ideali imperiali fatti con guerre sanguinose che sta avvenendo in Ucraina allora vuol dire che alla fin fine il popolo russo alla fin fine non può essere criminalizzato come come lo è la casta che ha il potere e che sta facendo questa guerra insomma sembra non dico che sembra piuttosto vittime ma comunque sono in una feria dittatura dalla quale non sanno da che parte girarsi forse è questo che andrebbe detto e quindi è pericolo che la Madonna ha detto non ha detto che la Russia sarà il popolo che ha detto il popolo russo non la Russia e questo è un piccolo particolare che è importante ho apprezzato quindi questo articolo di di Stefano Caprio perché giustamente molti di noi abbiamo dei ricordi del popolo russo che evidentemente è più saggio dei suoi dirigenti allora questo è il primo argomento che volevo toccare adesso c'è un altro argomento che tocco rapidamente perché siamo già vicini alla fine ma che è molto interessante e cioè in poche parole uno dei ideologi più importanti del regime attuale in Russia uno che comunque è molto introdotto diciamo nella società russa quindi ben visto da chi ha il potere e si chiama Putin e visto anche dal rappresentante religioso che vediamo che Alessandria Duin è onnipresente in Russia fa molti discorsi orienta l'opinione pubblica quella delle intellettuali quella religiosa c'è anche quella politica ebbene cari amici quello che forse molti cattolci non sanno è che Alessandr Dugin che è comunque un punto di riferimento culturale fondamentale nella Russia odierna ed è una persona rispettabile agli occhi dell'establishment russo ha un pensiero che non è nei suoi fondamenti non è cristiano non è né cattolico né ortodosso ma è un pensiero esoterico e satanista e che quindi porta quegli eccessi dell'armageddon dell'autodistruzione del toccare il limite massimo della malvagità e questo è un filone del suo pensiero che è stato messo in evidenza da quello che è maggiore diciamo conoscitore cattolico di Alessandria Dugin che è appunto padre Paolo Maria Siano che ha scritto un articolo che ho pubblicato sul sito e pubblicato anche su Corrispondenza Romana in cui vi leggo soltanto la conclusione questo lo dico a quei cattolici che come dire si illudono che l'attuale leadership russa rappresenta il cristianesimo non rappresenta il cristianesimo è un cristianesimo di facciata in realtà c'è molto esoterismo gnosticismo e satanismo guardate cosa scrive in questo studio che ha fatto padre padre Mario Siano su Alessandria Dugin conclude rimanendo che il pensiero di Alessandria Dugin fin qui delineato è gnostico esoterico e le sue teorie costituiscono una giustificazione ideologica folle e diabolica della guerra del terrorismo della devastazione più totale cioè Armageddon e apocalittica eccetera eccetera insomma di tutto quanto contemplato dalla via della mano sinistra che è un libro di questo tipo e dei romanzi di Pimean Karpov e Boris Savinkov appunto tutto quello che c'è in questi libri di follia diabolica di giustificazione della guerra del terrorismo tutto questo che è entrato nel pensiero di Karpov Dugin ci deve mettere in guardia dice Paolo Maria Siano russi attenzione russi cristiani ortodossi italiani cattolici romani non dovrebbero assumere le idee nichiliste ignostiche 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 ed eversive del professor Dugin che è il dialogo di stato di fatto perché a tutti i grandi raduni lui viene chiamato perché parli dunque russi cristiani ortodossi e cristiani italiani cattolici romani non dovrebbero assumere le idee nichiliste ignostiche ed eversive del professor Dugin contro la via della mano sinistra desiderata da Dugin ascoltiamo invece arrivare fino alla distruzione di tutto pur di difendere la Santa Russia questo è il punto della questione ma anche chi l'ha detto se viene toccata la Santa Russia sarà a Mageddon contro la via della mano sinistra desiderata da Dugin cioè essere pronti a tutto pur di difendere il potere ascoltiamo invece con speranza le parole dette dalla Madonna e i tre pastorelli di Fatima i tre viciluni del 1917 al tema della terza parte del segreto finalmente il mio cuore immacorato trionferà il Santo Padre mi consegrerà la Russia che si convertirà e sarà concesso al mondo un periodo di pace quindi cari amici questo dunque volevo dirvi io ho pubblicato per intero questo studio di Padre Paolo Maria Siano così appare con molta chiarezza che c'è una componente pericolosissima in questa ideologia della nuova Russia della pace Russia è un'idea di estremismo satanico e cioè arrivare come dire l'elevazione della violenza al massimo grado pur di imporsi anche a corso della distruzione del mondo e quindi questa componente non si vede chiaro che è così con la minaccia che fanno continuamente le bombe atomiche tutto questo non è a nulla di cristiano dice Padre Siano a nulla di cristiano non è né cattolico né ortodosso è semplicemente diabolico e questo per cui questo deve mettere in guardia sia i veri cristiani sia quelli ortodossi sia quelli cattolici a non seguire queste vie che porterebbero alla distruzione del mondo che porterebbero